Le forme dell'anima è il titolo della mostra di Marina Turco con progetto allestitivo di Vincenzo Pastore inserita nel cartellone del Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio. Il progetto si compone di busti di terracotta che unisce due nuclei di produzione, uno dedicato al mondo antico e uno alla drammaturgia teatrale. Busti antichi come quelli di Omero, Apollo, Poseidon e Dioniso rispondono all'intento di creare un più forte legame tra i volti e gli archetipi che li abitano mentre i busti di drammaturghi come Beckett, Pierpaolo Pasolini, Roberto De Simone e Shakespeare riplasmano l'esperienza del rito rendendolo elemento dialettico della condizione umana del tempo. Lo ascoltiamo nelle parole di Marina Turco. Le forme dell'anima è il titolo di questa mostra perché credo che sia un concetto che riesce bene ad adattarsi sia al mondo della mitologia antica sia a quello della drammaturgia del mondo dell'arte in generale. Questa esposizione vuole sicuramente anche essere una riflessione sulla creazione stessa sia intesa come mistero dell'origine sia come attività artistica che lo replica all'infinito per comprenderlo. La mostra ad ingresso gratuito si terrà fino all'11 luglio ed è aperta dal giovedì alla domenica dalle 16.30 alle 19.30 presso la Sala Causa del Museo di Capodimonte.